Eccoci ragazzi Pronti su Scream Ride appena uscito, fresco fresco Ciao Controllo Sì lo sappiamo già, lo sappiamo già Protetti al sicuro Scream Ride Perfetto Utilizzando il divertimento estremo Vogliamo portare l'umanità a un livello Penso un po' con il divertimento estremo Il tuo lavoro qui sarà importante per i nostri piani a lungo termine Che al momento sono riservati Tranquilli, tranquilli Ce la farò, ce la farò Allora, come vediamo le carriere da intraprendere sono tre Quello di Scream Rider ragazzi Guidare la gabbina delle montagne russe Quello di Esperto di demolizione Una mezza specie di Angry Bird O comunque di, che ne so Castle Crash Una roba così Roba di distruggere lo scenario Lanciando delle sfere diverse di volta in volta C'è quella che si diventa in tre Quella più piccolina che va più lontano Eccetera eccetera E quella penso forse che La gente apprezzata di più Quella di ingegnere Quella di creare montagne russe E rispettando dei criteri Come la lunghezza Il livello delle urla da raggiungere O raggiungere una certa velocità Sulla pista Quindi noi ragazzi Però iniziamo con il primo Così facciamo un po' abitudine con il gioco Andremo a fare qualche missione di Scream Ride Partiamo subito senza 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 un ruolo che agi Abbiamo visto che c'è una capacità Sandbox Potete leggere lì Ok ragazzi Qua sappiamo tutto tanto Come funziona Allora abbiamo avuto Scream Ride Incidente in vista Se lo compitiamo in meno di 0.40 E senza deragliare Sono sfide bonus Abbiamo 5 stelline E una coppa d'oro Da sbloccare Questo è un gioco di quelli Dove bisogna far rifare Per sbloccare il punteggio più alto Per entrare in classifica Ora noi Purtroppo Con youtube i tempi Non sono al nostro A nostro favore Nonostante mi ricordo Eccolo qua Ok lo sappiamo Ok RT per accelerare L per inclinarci Per evitare di deragliare L T per frenare Bene X per accumulare Il turbo Nelle zone Quelle blu Nelle ruotaie blu E A per usare Il turbo Accumulato Se restiamo in equilibrio Sulle due ruote Prendiamo un bonus Quindi Siamo corretti anche a partire Tanto la prima È abbastanza Abbastanza Troppo presto Peccato Ecco qua Zona blu Si carica E prendiamo il buono Non c'è Per accelerare Perché sennò Andiamo troppo lenti Qui Ah Sbagliato Già prima Errore per noi Fermo Dove vai Buono due ruote Attenzione ragazzi Stiamo per arrivare Oh Tende il turbo Preso Ma ora Accelera Oh Preso Oh ragazzi Madonna Si in 040 Come si fa Porco cane Di poco però eh Di poco Vediamo quanto abbiamo preso Uh Ma la spettacola Invece L'hanno cambiata Perfetto No viene sbloccato Obiettivo sbloccato Qualche novità Divertiti Ah Novo tecnologia Montagne russe Guardate Usabili In sandbox Vedete Più giochi Più sblocchi Di cose in sandbox Vediamo un po' eh Quante stelle Correre O urlare Questo è il dilemma Ah 4 Eccellente Buono E poi Completava anche In meno di 40 Amici Ce l'ho solo io Adesso Sto giocando Vedete che Sarà a mezza 8 e 20 E ci vedo Da 20 minuti Il gioco Andiamo Gioco al prossimo Livello Andiamo subito Ragazzi Andiamo subito Mi sto già divertendo Allora Ottieni una potenza Con evoluzione Perfetto Devo imparare Deraglia Punteggio 1.220 Non lo so Bonus Due ruote Tale Carica il tube Al 100% Quello si potrebbe Anche fare Per aumentare La velocità Spingi al massimo La forza G Viaggiando Su due ruote Non lo so Non lo so Piace urlare I passeggeri Ma io ci salerò mai Qua sopra Ragazzi Bonus Partenza E vai Diamo un po' Di turbo Per andare Se no Carichiamo il turbo Al massimo Pausiamolo Se no E da fastidio Andare lento Eccellente Smitters No Due giri Su Agili Su Wow Arriviamo al massimo Dai Carica sto tube Al massimo Dai Oh Due ruote Ultimo giro Cazzo Già Mazza volte E corti Sisti Tacciati Perfetto Potrebbe stare L'ultimo E spinge A manetta Ragazzi È turbo Massimo Ora si spinge A manetta Oh E vai Vediamo un po' L'azione Dove L'ha superata Di 300.000 Ragazzi Nuovo record Valutazione Urla Stato test Scream rider Super Un'attrazione Migliorata Non sei passato Inosservato Perfetto L'ho fatto Tiene l'attrazione E c'è Il tubo A 100 Mancano Gli altri Due Peccato Peccato Facciamo il tempo A fare anche il terzo Ragazzi Allora Cieni Perfetto Uno spavimento Turbo Ok Carica il tubo Al centro Su centra L'edificio Alla fine Forse Lasciamo Oltre L'edificio Bello Ok Belle 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 Cosi Dobbiamo Usare il turbo Al massimo Senza Deragliare Vediamo Vediamo Sì Lo sappiamo Amoria Yeah 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 Cico Yeah Vai Carichiamo il turbo Ragazzi Va che lo carichi Va che lo carichi Perfetto Oh Tendi tutto Turbo Perfetto Bonus A due ruote Allora Dovremmo arrivare a centra Adesso Se arrivo Turbo La tua palazzo La potenza Lo usiamo tutto Senza deragliare Perfetto Oh Ah Troppo presto Oh Ragazzi Ah Porca di Se Aiuto No Devo distruggere il palazzo Vai Vai indosso Vai indosso Vai indosso Vai indosso Vai indosso No Peccato Ho sbagliato alla fine Perché Ah Peccato Sto andando a mille Ragazzi A mille A mille Bello Certamente Vediamo quanto abbiamo preso Ragazzi Penso poco No Quattro Sempre Però ho fatto solo carica il turbo al 100% Peccato Peccato Oh Comunque sono prima tutte le classifiche Oddio Vediamo un po' Mi manca la testa da fare Ah Mi manca l'ultima ragazzi Andiamo subito Allora Andiamo Andiamo Eccoci qua Eccoci qua Con l'attenzione È tutto Per mettere alla prova Le tue capacità di non deragliare Non deludirci Ottieni la partenza La produzione è perfetto Possiamo farla Ottieni 3 perfetto Dagli assorbimenti turbo Possiamo farla Complete meno di 1.27 Non lo so Non deragliare E punteggio di 2.800 Ma sei matto Vediamo va Se ci metta la prova Perfetto Dai Caricati Caricati No Eccellente Oh Bello ragazzi Perfetto Questo è bello Diracciato Questo è veramente Che è bello Oh Io Io ci sarei Ne membri la mia Porco Diz Ma siamo mati Ma come ci sargo Qui sopra Io Porco Già mi sta venire A vomitar Qua a vedrello Perfetto Oh Ma sei matto Eccellente Ultimo giro Ragazzi Ragazzi Arriviamo Al centro Turbo Eh vai Si spinge Allora Adesso Oh Ah Ho perso Turbo Vai col turbo 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 Oh C'è Non c'è Sempre Stai lì qua Ci vuole coraggio Ci vuole ragazzi Turbo Esaurito Perfetto Ci vuole Del coraggio Assurdo Stavo per deragliare Stavo Turbo Ok Perfetto Perfetto Oh Stavo per cadere 2744 1.000 Ragazzi Ce l'abbiamo fatto Stavo a vomitar Apun io stavo a vomitar Vedeve solo Penso a postarlo Da sopra Ma voi siete matto Il quadro Un'attrazione Migliorata Non sei passato Inosservato In quanto l'ho Completato In quanto l'ho Completato 1.31 1.27 Se non sbagliavo Quel Turbo Spingevo un po' di più Ah Peccato ragazzi Peccato 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 Oh Adesso T'appuola Questo video Finisce qua Noi ci vediamo Nel prossimo Che uscirà Forse ne farò uno al giorno Non lo so Vedrò ragazzi Andremo a provare L'esperto di demolizioni E poi Ditemelo voi Iscrivetevi sotto Nei commenti Se volete Prima che mi ci menti Nel Esperto di demolizioni O nell'ingegnere E ditemelo voi Intanto io mi diverto A fare tutto Basta che me lo dite Ragazzi E lo farò Vi ricordo Di mettere un bel mi piace Di commentare Questo video E tutti i miei video Naturalmente Di condividere Il video E chi non l'ha fatto Di iscriversi Dai che stiamo Crescendo E tutto Grazie a voi Tutto grazie a voi Ragazzi Quindi da 390 Da Game Oversize È tutto Ci vediamo Nel prossimo episodio Ciao ciao ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti